ciao sono vincenzo muscolo vtd 110 di molex è l'esclusivo walking the dog che nasce per adattarsi a molteplici situazioni di pesca lo studio delle forme e il design particolare lo rendono versatile e adatto a moltissimi predatori le particolari linee permettono di raggiungere grandissime distanze e in acqua il movimento è personalizzabile sia con recuperi veloci dove l'esca emette un'infinita quantità di schizzi che con recuperi lenti dove il movimento diventa stretto e sinuoso uno zig zag molto pronunciato recuperato anche con cercate secche e lunghe l'esca entra ed esce dall'acqua vtd 110 un walk in the dog di 11 cm per 26 grammi di peso armato con ancorette e anellini di alta qualità tutto questo viene arricchito dal particolare ratlin interno che emette delle vibrazioni irresistibili a qualsiasi predatore ecco abbiamo attaccato un pesce in top water una situazione di forte marea quindi molta corrente sostenuta lo vede un barracuda bella patito un bel barracuda bellissimo attacco in top water spettacolare il vtd 110 è letale vtd 110 attacchi da paura un bel barracuda citron un bel barracuda Grazie.